Aperto ufficialmente oggi il Tempio Crematorio di Sicilia, Delia. Gestito dalla società Acquaviva, il Tempio Crematorio di Delia ha già avviato le prove di emissione in atmosfera i cui risultati saranno comunicati al Libero Consorzio di Caltanissette e all'ARPA secondo le prescrizioni dell'autorizzazione unica ambientale. Si tratta della terza struttura attiva sull'intero territorio regionale. Sin da subito, racconta Pietro Lavarini, amministratore della società Acquaviva, abbiamo registrato da più parti la necessità avvertita da operatori e cittadini di un nuovo Tempio Crematorio in Sicilia, un servizio importantissimo quindi, quello offerto dal Tempio di Delia, nella massima attenzione e tutela della salute pubblica e dell'ambiente che garantisce tecnologie innovative e sicure e i più avanzati sistemi di filtrazione per l'abbattimento dei fumi di scarico con un livello di emissione sensibilmente inferiore ai valori minimi di legge. Dalla società Acquaviva forniscono alcuni dati molto interessanti sulla diffusione della pratica crematoria. Secondo la Cremation Society, infatti, la pratica continua a diffondersi in tutto il mondo con percentuale molto elevata in Asia, America ed Europa, il primato mondiale del Giappone dove la cremazione coinvolge addirittura il 99,9% dei decessi. In Italia, invece, con il 23,9% la cremazione continua a crescere anche se il distacco resta notevole rispetto ad altri paesi europei come Gran Bretagna, Germania, Portogallo e Spagna.